L'ITT Pascal è una scuola di alto profilo che sa coniugare tecnologia e attenzione per lo studente, al quale quindi offre non solo solide conoscenze, ma anche le competenze per affermarsi come persona. Per una formazione completa attiviamo progetti pomeridiani e mattutini non solo tecnologici, ma anche civili e culturali. Abbiamo una ricchissima biblioteca, il Museo dell'Elettronica e dell'Informatica, laboratori attrezzati aperti anche all'utenza esterna e siamo sede dell'ITS McLuhan, dell'IFTS e del FabLab Romani. Il corso di elettronica e automazione propone una formazione tecnica che va dalla realizzazione di impianti elettrici tradizionali e domotici, alla progettazione e realizzazione di circuiti elettronici, fino alla programmazione di sistemi a microcontrollore e all'uso di logiche programmabili per il controllo di processi industriali con impiego di sensori e trasduttori. All'interno del corso di informatica e telecomunicazioni, a lunne da lunne, acquisiscono competenze trasversali che vanno dall'analisi alla gestione di sistemi informatici e di telecomunicazioni, passando per progettazione e installazione. A partire soprattutto dal terzo anno vengono acquisite le competenze rispetto al web, ai dispositivi mobile, alla gestione di reti di sistemi informatici, alle basi di dati e ai software gestionali. Il tutto senza trascurare l'aspetto di gestione del progetto e dei servizi informatici. Il Pascale è una scuola radicata sul territorio, che offre ai ragazzi grandi sbuchi professionali e didattici presso istituzioni universitarie, istituzioni tecniche superiori, IFTS. Molti dei nostri diplomati ricoprono ruoli tecnici di dirigenza e di rilevanza nelle aziende locali e non contribuendo al loro successo.